Post partita Napoli-Lazio del primo tempo, poi faremo anche il post partita dell'Atalanta tra pochi minuti Cerco di parlare poco, fatto sta che Napoli-Lazio al momento è 1-1, un gol di Luis Alberto e poi gol di Zielinski Abbiamo visto senza altro il primo tempo in cui Napoli ha un varicentro molto alto Il Napoli sta dominando come potete vedere qui nel possesso balanza in realtà, soprattutto nei primi 20 minuti Nei primi 20 minuti, ora se non siete un po' riequilibrata, sicuramente Napoli che ha creato 2-3 occasioni se non anche 4 Dove poteva senz'altro fare gol, 4 tiri in porta con un tiro dell'Azio, un gol e vogliamo parlare del gol di Luis Alberto Mago, che non è un soprannoma caso, non mi ha azzeccato il giocatore che io sto apprezzando tantissimo Cioè è un giocatore di cui io calcisticamente sono innamorato da tantissimo tempo Ed è un giocatore fortissimo Penso appunto al gol che ha fatto perché c'è stato il cross, se non R, Felipe Anderson Colpo di tacco di Luis Alberto che ha segnato il gol che vale, che è valso lo 0-1 Il Napoli però ha una reazione decisamente ottima con l'1-1 realizzato da Zieninski, tiro deviato, palla in rete Poi ci ha provato Varschelia, giocatore, mamma mia Cioè è una bellezza per gli occhi, è una bellezza per gli occhi vedere questo ragazzo Bellezza per gli occhi ripeto E chiaro ha creato tanto, penso al tiro quasi sulla traversa Provvedel fa una paratona incredibile Penso a un'altra buona parata di Provvedel all'inizio della partita Con il Giorgiano Casterzato, tirato parata di Provvedel Ma in generale la Lazio nei primi 25 minuti, ma anche 30, ha fatto un gioco Cioè non è il gioco che doveva fare perché qui al Maradona Ora che la Lazio ha un punto non può attaccare continuamente Deve un po' cercare di difendersi bene e trovare un gol Tipo un episodio deve trovare la Lazio E chiaro è una partita dove il Napoli secondo me merita vittoria Però, chiaro che vedremo questo secondo tempo che ci aspetterà Possiamo anche notare ragazzi, Araschelia Che molte volte va anche dentro il campo Un giocatore formidabile Con un Kamada, almeno io l'ho trovato un giocatore normalissimo per ora Ma perché deve entrare in condizione Un giocatore che a me sinceramente In queste partite della Lazio non mi ha strappato gli occhi Cioè un giocatore che almeno oggi a Napoli sta facendo una fatica tremenda Passiamo invece ad Atalanta a Monza 2-0 per l'Atalanta Per ora è una partita diversa Sicuramente da Napoli-Razio Come prevedibile, d'altronde Abbiamo visto sicuramente una partita nella quale l'Atalanta Ha fatto all'inizio un po' di fatica Si è giocato tanto, infatti il tempo effettivo non è stato basso Non ha un ritmo particolarmente alto Però non ci sono state grosse interruzioni Infatti il recupero è stato di soli due minuti Che è un calcio di oggi E' pochissimo Fatto sta che appunto I primi 20 minuti abbiamo visto Una partita non con un ritmo particolarmente alto Con un'Atalanta che forse ha fatto qualcosa in più del Monza Con un gol annullato a Scalvini per posizione di fuorigioco Bravo arriva a dire il Red Dopo colpiteste e scancca parato di Gregorio Tra l'altro gran parata Però annullato per offside Poi comunque il Monza due occasioni principali le ha avute Il tiro di Vilindelli fuori di niente E il tiro di Ciorria Dove la parata di Musso su Colpani Di Ciorria si è ridivorato Fatto sta che poi l'Atalanta ha alzato un po' di giro Il motore ha trovato il gol che va sul 1-0 Il gol di Ederson Un giocatore che secondo me sta migliorando sempre di più Con un calcio angolo battuto C'è stata un po' una mischia Una roba e l'altra Piatone di Ederson Poi c'è stato anche il 2-0 C'è stato anche il 2-0 Con i gol di Gianluca Scalvini Primo gol Con questa maglia Gianluca Scalvini che senza altro È un attaccante totalmente diverso da Hoylund per esempio Però Ha fatto comunque un bel gol di testa Cross di Ruggeri dalla sinistra Colpiteste di Scalvini Quanto sta che l'Atalanta non mi sta dispiacendo Sta facendo di più rispetto al Monza Non nel possesso palla Dove possiamo vedere sicuramente che cavolo ho fatto qui Dove l'Atalanta ha avuto un possesso palla inferiore 54 Monza, 46 Atalanta Dove le percentuali estetiche dicono che L'Atalanta ha creato più occasioni Come si vede anche dagli expecti Il gol Fatto sta che comunque il Monza secondo me Deve fare qualcosina di più Detto questo noi ci vediamo nel secondo tempo Come il calcio è strano Un Napoli che nel primo tempo meritava di vincere Nel secondo tempo la Lazio ne meritava di fare due o tre Mamma mia E sento persone dire Eh ma con il Con il catenaccio non si vince più Ma dai Ragazzi Chiaro che Il catenaccio Come ha fatto la Lazio nei primi 30 minuti Perché la Lazio non ha fatto niente nei primi 30 minuti Si è difesa bene però Nonostante l'occasione del Napoli Comunque è riuscito a vincere Almeno sta riuscendo a vincere Poi dal trentesimo minuto La Lazio ha iniziato Ha iniziato A carburare Nel secondo tempo abbiamo visto un Napoli Che Non ci ha capito più niente Forse Non ci ha capito più niente Eppure un Eppure un Un complimento Visto che La Lazio almeno ha avuto 5-6 occasioni Nel secondo tempo Il Napoli in varia totale Cioè Io capisco il fatto di Prendersi dei rischi Perché la Lazio era passata Sul 2-1 Con un bel gol Da Echikamada Che Fino Al primo tempo della partita Non aveva combinato niente Ma Con questo tira all'angolino Comunque Ha fatto un bellissimo gol E chissà magari Che possa diventare un giocatore Da adesso Titolare Andiamo a vivere Con una condizione decisamente migliore Dopo il Migliore Dopo il 2-1 Della Lazio Mamma mia Il Napoli Non ci ha capito più niente Cioè Non ha creato Nulla in attacco Ha subito solo Con due gol La Lazio annullati Per fuori Gioco due Cioè Il Napoli Oggi potrebbe perdere Perché Il Napoli Nel primo tempo Ne potrebbe fare fare due Forse anche tre Anche se tre no Però Poteva farne due Però a parte Poteva finire 2-5 2-4 3-5 Cioè Poteva essere una partita Da 8 gol Stasera Poteva essere una partita Da 8 gol Stasera Non è stato così Almeno Non è così Vedremo In questi minuti Il Napoli Riuscirà Quanto bene A trovare il pareggio Cosa molto complicata Però la Lazio Vengono annullati Due gol Uno Per fuori gioco Di Di Zaccagni E l'altro Proprio per fuori gioco Di Zaccagni Con Appunto la Lazio Che aveva realizzato Il gol Dell'1-3 Con L'assist Di Gendusi Per Zaccagni Solo Cosa inguardabile Cioè Napoli Non può stare Lì a guardare E Gli viene annullato Il gol Per posizione regolare Fuori gioco Semi-automatico E poi Altro gol Anullato Tiro di Gendusi Sotto l'incrocio Gendusi È entrato benissimo E possiamo anche Vedere Possesso palla Che Napoli Ha fatto di più Cioè Vedete che Nella vita Nella vita E guardate anche I gol attesi Cioè Veramente Cioè Questa è la vita Questa è la vita Cioè Napoli Per il tempo Poteva fare Due La Lazio Poteva fare Cinque al secondo Cioè Veramente Un qualcosa Di Assurdo Vedete Solo un tiro in porta Ma perché la Lazio Non ha centrato la porta Spesso E appunto Gol annullato Di Gendusi Per fuori gioco E Zaccagni Io vedo tanti Che dicono Eh ma Annullare quel gol Non è giusto Io Ragazzi Se c'è una cosa Su cui So veramente Poco Il fuori gioco Io Il fuori gioco Non lo capirò mai Quindi non mi esprimo Fatto sta che Il fuori gioco Una cosa È sicura Quando Viene annullato Un gol Alla squadra avversaria Tu Che stai vincendo Tipo Che ne so Napoli-Lazio Se a Lazio Vengono annullati Due gol Il diffuso napoletano Gode Ma se Si verifica L'effetto contrario Il diffuso Lazio Gode Dipende Cioè Quando La squadra Che tifi Vengono annullati Due gol Ti incazzi Come una iena Quando All'altra squadra Avversaria Che tu non tifi Gli vengono annullati Due gol Tu Sei contento Diciamo che Godi E ti incazzi Ecco Quindi Diciamo che È una situazione Un po' strana Fatto sta che Comunque tutti Sti fuorigiocchi Di un millimetro Vabbè Comunque Fatto sta che E' evidente Anche Il Napoli In baglia totale Nel secondo tempo Centrocampo Crollato Quarazchieri Ha tolto Politano Molle Osimene Ma anche La difesa Orrenda Di Lorenzo Ha fatto una fatica Bestiale Così come i due centrali Forse è l'unico Che si salva oggi Forse è l'unico Che si salva oggi Se però dobbiamo Essere Gentili Quello che non ha creato Particolari danni È Olivera È Olivera Perché tutte le lezioni Da Lazio Sono arrivate Dalla catena di sinistra Per via centrale Quindi Olivera Non ha Parecchie colpe Comunque Per quanto riguarda La Lazio Appunto Primo tempo Dove si è difesa Nel secondo tempo La Lazio ha giocato Con molta più leggerezza Si è visto Con una squadra Che almeno Sta centrando I primi tre punti Che erano non Cioè Non allarmismi Per il Napoli Perché comunque Una squadra forte Gioca un bel calcio Però Senz'altro Non può essere questa La difesa del Napoli Campione d'Italia E quindi Comunque Vittoria Per la Lazio Diciamo Meditata Diciamo di sì Cioè Perché nel secondo tempo La Lazio ne poteva far quattro Come il Napoli Nei primi cinquanta minuti Stava giocando bene Quindi Direi Meditata Alla fine Per quanto riguarda Atalanta Monza Partirà senza storia Dominata l'Atalanta Nel secondo tempo Il Monza Dopo il 3 a 0 Non l'ha più giocato Chiaramente Con un gol di Gianluca Scamacca Stendi Gomescio Per lui Due gol per lui Due gol annullati Inoltre all'Atalanta Uno di Cup Miners Il secondo tempo Uno di Scalvina Il primo Ma l'Atalanta Che ha giocato Spensierata Mi è piaciuto tantissimo Cup Miners Ma in generale Tutta l'Atalanta Insomma oggi ha fatto Una gran partita Ruggeri Sta crescendo Oppure lo stesso Lo stesso Zappacosta Ecco Quindi Senz'altro una prestazione D'Atalanta Sicuramente Che Paradossalmente Con Le coppe Verderà tanto Ma Senza le coppe L'Atalanta È una squadra Che potrebbe Centrare anche Il terzo posto C'è una squadra Che con le coppe Perde tanto Senza coppe Tanta roba Detto questo Like Iscrivetevi al campanella Via un po' Se segna il Napoli Ma di dubito Fortemente Se no chiudiamo Quel video Vediamo un po' Con Jesus Botta Mamma mia Vicino al gol Qui L'Inström Però Non segnerà Il Napoli Credo Ovvero